Sparare ai globi dei lampioni con armi ad aria compressa e ridurli a modico labrodo sembra essere il passatempo prediletto di un gruppo di ragazzini nel quartiere di Sant'Orso Atti vandalici, la storia si ripete, cambia solo il luogo ma i comprimari della scena sono sempre gli stessi Gruppi di adolescenti che si aggregano di sera in luoghi poco frequentati in certe ore come centri commerciali o arie verdi, si beve vino o birra e si bivacca svogliatamente senza uno scopo e senza un fine se non quello di ammazzare il tempo con metodi sempre più poco civili e sempre meno rispettosi dell'altrui proprietà Siamo a Sant'Orso nel piccolo centro commerciale annesso a un condominio che da diverso tempo è stato scelto da rumorosi ragazzini in scooter ci dicono gli abitanti del luogo come punto di ritrovo per le loro serate Niente di male, se non che lo stato in cui lasciano il posto sembra più una discarica di immondizia che un condominio ed il modo in cui decidono di passare il tempo assomiglia più a un videogioco di quelli violenti dove tutto è concesso solo che nella finzione tutto torna a posto, nella realtà invece rimangono lampioni distrutti, danni per diverse centinaia di euro e abitanti e condomini esasperati Ormai sono diversi mesi che stanno andando avanti con questi atti vandalici che abbiamo denunciato più volte all'autorità, sia al commissariato di polizia, sia ai vigili urbani ma senza nessuna soluzione Non è la prima volta che sostituite i globi? Sono tre volte che sostituiamo i globi e sono due volte che sostituiamo il palo integralmente anche perché queste cose avvengono di notte e c'è anche un pericolo serio per l'alta tensione Anche il tipo di approccio interpersonale con questi ragazzini è lo stesso che abbiamo già riscontrato in diverse occasioni sempre diciamo un po' così, poco propensi al dialogo Io parlo per me, io vorrei stare un po' in santa pace anche perché sono una persona da sola ho dei problemi e non vorrei che torno dal lavoro e mi ritrovo sempre questi ragazzi qui che non gli si può dire neanche niente perché se gli dici una parola di traverso ti aggrediscono Tant'è vero che una volta, non lo so, ci avevo litigato alla grande e io stavo per entrare 5 o 6 di loro non mi volevano far entrare Io spingevo da dentro la porta e loro spingevano da fuori e io ho avuto una gran paura Questo è registrato dai carabinieri di Fano perché sono venuti su perché io ero talmente sconvolta perché poi fra l'altro ripeto io ho dei problemi Grazie 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 Grazie